All'interno della Pinacoteca del Palazzo Naristiano si trova il celebre quadro di Guercino che il pittore definse nel 1641 per la chiesa di Sant'Agostino a Pano. Nel 1848 un poeta inglese Robert Browning venne a Pano e per puro caso si trovò all'interno della chiesa di Sant'Agostino dove vide il dipinto, ne rimase folgorato e scrisse la celebre poesia dei Guardian Angel, l'Angelo Custode appunto. Nel 1912 uno studioso del poeta inglese Browning, il professor Phelps dell'Università di Yale negli Stati Uniti, venne a Pano ripercorrendo le tappe del viaggio di Browning. Vide anche lui l'Angelo Custode e decise di fondare a Pano il Fano Club. Per essere membri dei quali occorreva fare tre cose, venire a Pano, vedere l'Angelo Custode e spedire una cartolina in America che lo ritraesse. Lui stesso ne spedì ben 75, ma queste cartoline non giussero mai gli Stati Uniti in quanto furono imbarcate sul Titanic e affondarono con esso. Nel 1930 un altro studioso di Browning, il professor Armstrong dell'Università di Iwako in Texas, venne a Pano e anche lui fondò un Pano Club. E a ricordo di quella sua visita, fece porre vicino al dipinto una lastra di mano con un'iscrizione. Oggi la lastra e il dipinto si trovano entrambi nella Pinacoteca, in quanto la chiesa di Sant'Agostino venne gravemente danneggiata da un terremoto sempre nel 1930. Per quanto riguarda il Pano Club, quello di Yale oggi non esiste più, mentre sopravvive ancora quello di Iwako in Texas. E lo scorso 15 giugno la direttrice della biblioteca Armstrong di Iwako in Texas è venuta proprio a Pano per diventare ufficialmente uno dei membri di Pano Club e rinnovare il legame tra la città di Iwako e la nostra città di Pano.